L'omosessualità è una normalità o una anormalità? È normale essere omosessuali o non lo è? Allora, per scoprire questo basta semplicemente aprire il dizionario. Cosa significa normale? Normale significa ciò che accade nella norma, ciò che accade quindi nella maggioranza dei casi, ciò che è abitudinario. Vediamo per esempio questo video di un esame medico. Ecco, la dottoressa ha misurato e ha detto la distanza tra questi due organi è 6,5 cm ed è normale. Cosa significa? Che di solito le persone hanno questa distanza. Ok, se lei avesse trovato 3 cm oppure 12, quindi più piccolo o più grande, avrebbe detto eh, non è una cosa normale. Ma oppure pensiamo anche quando diciamo non è normale che a giugno faccia così freddo. Cosa vuol dire? Che di tutti i giugno che abbiamo vissuto normalmente non c'era freddo. Infatti se a giugno è freddo non è una cosa normale. Ma basta pensare anche a essere mancini. Essere mancini è normale? Cioè avviene nella normalità? No, perché nella maggior parte dei casi uno è destrorso si dice. Oppure avere gli occhi verdi è normale? No, non è normale, è una rarità. Oppure avere l'orecchio assoluto. L'orecchio assoluto sapete è quella dote che hanno alcune persone, rarissime persone che le permette di distinguere istantaneamente una nota musicale dalle altre. Essere disabili è normale? No, perché di solito le persone sono in uno stato di salute e le persone disabili sono di meno di quelle che non sono disabili. Oppure essere dislessici? Oppure avere una sindrome come la sindrome di Down? Attenzione, essere miopi è normale? Si potrebbe pensare di no, invece già metà della popolazione italiana è miope, porta gli occhiali. Cosa vuol dire? Che essere miope, miopi, sta diventando una cosa normale. Bene, abbiamo capito allora? E allora pensiamo, essere omosessuali è normale? Assolutamente no, perché quanti sono gli omosessuali? Quindi le stime sono difficili, comunque variano dal 3, 4, 5% fino al 10, 11%. Quindi sono senza dubbio la minoranza della popolazione. Sono una piccola parte, non piccolissima, comunque una piccola parte della popolazione mondiale. Quindi essere omosessuali è una anormalità, ma in senso di diversità, in senso non negativo. Noi siamo abituati ad associare a la normalità, a normalità, un senso negativo. Invece no, invece dobbiamo intenderla come specialità, diversità, rarità, diversità. In altre parole, se qualcuno ci dice Non è normale amare un'opera di lo stesso senso. Solo perché qualcosa ce l'ha una minoranza delle persone. Cosa significa? Che è una cosa brutta, negativa? No, abbiamo visto che tante cose che sono anormali sono in realtà belle, come per esempio l'orecchio assoluto, avere gli occhi verdi, eccetera. Non per forza ciò che è anormale, ciò che è insolito, è negativo. Dunque, non possiamo dire che essere omosessuali è normale, perché se diciamo che essere omosessuali è normale, diciamo, non stiamo ragionando in termini statistici, non stiamo ragionando in termini realistici. Cioè, di solito, una persona nasce iterosessuale, questo accade, potremmo dire, nella natura. E quando una persona nasce omosessuale, cosa dobbiamo dire? Che è una cosa che la natura fa raramente. Questo è tutto per questo video, spero di essere stato utile e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.